Ragazzi, l'altra sera lo scontro a dritto e rovescio tra il trapper, Bepi Kang e Del Debbio. L'artista, in un messaggio social, dice che le trasmissioni di Del Debbio sono per vecchietti e deve ringraziare lui se qualcuno ancora le guarda. Ma ascoltiamoci la risposta del mitico Del Debbio. Prosegue la scia di successo di dritto e rovescio. Si, lo so che è sotto. Senza parlare di me, i vostri programmi per vecchietti sarebbero falliti tanto tempo fa. Come si chiama sto qua? Che tristezza però. Baby Kang, ascolta a me. Allora, dove c'è una telecamera? Allora, Baby Kang, ascolta a me. Anzitutto abbi rispetto per i vecchietti. Bravo. Va bene? Perché... Perché sono persone che certamente sono più sapienti di te, nella maggior parte dei casi magari sono anche più bravi persone di te, quindi non rompere sui vecchietti. Primo. secondo i nostri programmi, caro Asdrubale, vanno molto bene da molto tempo, da dieci anni. Prima. Quindi che tu ci sia te o non tu ci sia, per il programma non cambia una beata mazza. e che vita? Terzo. Prima di continuare con il video però, vi chiedo un favore di iscrivervi al canale. È gratis, ogni giorno troverete nuovi video. Cosa aspettate? Caro Baby Gang, mi devi ringraziare che io frequentemente invito persone che rappresentano appunto rapper, trapper, eccetera eccetera. Perché? Perché lo faccio perché è un fenomeno della società a cui bisogna dare voce. Altri non gliela danno, io sì. Quindi mi devi ringraziare. Poi. E poi basta, ho già perso troppo tempo. Grazie.